Pace bene a tutti, bentornati anche oggi. Ricordiamo Santa Paola. Ascoltiamo la sua vita. Paola Montal Fornes nasce nel 1799 ad Arenis de Mar, vicino a Barcelona. Di umili e origini, sin da piccola, dovette aiutare la mamma vedova con cinque figli di cui lei era la maggiore. Si formò nella parrocchia, ma la ragazza crebbe con il rammarico di una educazione incompleta. Perciò sentiva forte il bisogno di una istruzione per le donne e a 30 anni fondò a Figueras la sua prima scuola femminile aperta alle bambine e alle giovani. Nel 1837, poi, ritornando nella sua regione Natia, scoprì il carisma di San Giuseppe Calasanzio, che fondò a Roma i chierici delle scuole pie, detti scolopi, per l'educazione di bambini poveri. Entrò in contatto con i padri scolopi e nel 1847 pronunciò i voti, dando avvio alle figlie di Maria delle scuole pie e continuando a fondare numerose scuole. Dal 1829 al 1859 furono sette. Dal 1859 poi si trasferì a Olesa di Montserrat, un piccolo e povero paese ai piedi del Monastero della Vergine, per la quale sentì sempre una grande devozione e, fino alla morte avvenuta nel 1889, lavorò per far crescere la sua congregazione, che oggi è diffusa in tutto il mondo. Madre Paola Montal partecipava attivamente alla spiritualità calasanziana, ed il suo particolare carisma educativo, orientato verso la formazione umana e cristiana integrale della donna, continua ad essere un tema particolarmente attuale. Nella nostra società, lacerata da molte tensioni, l'educazione per tutti, la promozione della donna, della famiglia, sono temi spinosi, temi che Santa Paola intuì sin da subito. Il suo carisma fu annuncio di amore e speranza, soprattutto per la donna che scopre in lei la madre e la maestra della gioventù femminile, ed ancora oggi continua ad essere urgente e piena di attualità, come lo fu allora. Papa Giovanni Paolo II la beatificò a Roma il 18 aprile del 1993 e la dichiarò santa il 25 novembre del 2001. Come abbiamo ascoltato, Santa Paola era cresciuta con questa consapevolezza, quella che le era mancata una adeguata preparazione, una preparazione culturale. E proprio risposta a questa che aveva avvertito come una sua profonda mancanza, nel 1837 fonda una scuola, una scuola per bambine e per ragazze, proprio per preparare anche loro che non avevano questa opportunità di studiare e quindi muovere i loro passi nel mondo con competenza. Quella dell'istruzione è un'opportunità che noi riconosciamo essere un diritto per tutti al mondo di oggi, però chissà se effettivamente tutti quanti hanno poi accesso alla scuola, alla formazione, così come dovrebbe essere. Anche chi non ha gli stessi strumenti, non parliamo di quelli pratici, parliamo quelli dell'intelligenza, e che quindi fa un po' più fatica per acquisire un determinato contenuto. Ecco, queste sono le persone, i nuovi poveri, sui quali noi dobbiamo porre la nostra attenzione, anche se non siamo insegnanti. Però pensiamo a quanti ragazzi, a quante ragazze fanno difficoltà nel mondo della scuola e non trovano chi li ascolti, non trovino chi li aiuti a fare un piccolo passo in avanti nella loro formazione ed educazione. Quindi ci affidiamo a Santa Paola, perché tutti possiamo essere degli insegnanti. Però magari se sappiamo che il nostro nipotino va a scuola con un bambino o una bambina che non riesce tanto, ecco, incitiamo e incoraggiamo i nostri figli, i nostri nipoti ad aprire gli occhi alla realtà che li circondano e quindi tendere la mano, aiutare. E se sono un po' più bravi, riuscire un pochino a dare un po' di sollievo, perché è difficile andare a scuola e non sentirsi all'altezza di tutti gli altri. Quindi questo è un invito a chi è un po' più bravo nel condividere, è un invito a condividere le proprie capacità, ma anche un invito a chi, ecco, sa di dover faticare un po' di più, come è successo a Santa Paola, ad creare occasioni perché altri poveri come lui possano trovare una risposta. Allora preghiamo l'intercessione di Santa Paola proprio su tutti gli studenti e le studentesse di questo mondo affinché riescano a trovare una mano se ne hanno bisogno o ad aiutare se possono permetterselo. Santa Paola prega per noi.